In quei giorni Vi comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea dicendo Convertitevi poiché vicino è il regno dei cieli. Di lui parla il profeta Isaia che dice Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni indossava una veste di peli di cammello, stretta ai fianchi con una cintura di pelle. Il suo cibo erano locuste e miele selvatico. A lui accorrevano da Gerusalemme, da tutta la Giudea e da tutta la zona adiacente al Giordano e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo un giorno venire al battesimo molti tra farisei e sadducei, li apostrofò dicendo Razza di vipere, chi vi ha insegnato a cercare scampo dall'ira ventura? Fate dunque veri frutti di conversione e non vi illudete dicendo Abbiamo Abramo per padre, poiché vi dico che Dio è capace di suscitare figli ad Abramo da queste pietre. La scure sta già sulla radice degli alberi, Perciò ogni albero che non porta buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io sì, vi battezzo in acqua perché vi convertiate, ma colui che viene dopo di me è più forte di me ed io non sono degno di portarne i calzari. È lui che vi battezzerà in spirito santo e fuoco. Ha nella mano il ventilabro per mondare la sua aia, raccoglierà il suo frumento nel granaio e brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano per essere da lui battezzato, ma Giovanni voleva impedirglielo dicendo Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, tu invece vieni a me. Ma Gesù gli disse Lascia per ora, per noi infatti è doveroso adempiere ogni giustizia. Allora consentì. Non appena si immerse, Gesù risalì subito dall'acqua ed ecco si aprirono a lui i cieli e vide lo spirito di Dio discendere in forma di colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce venne dai cieli che diceva Questi è il mio figlio di letto nel quale ho posto la mia compiacenza. Allora Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti ebbe fame. Gli si avvicinò il tentatore e gli disse Se sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose Sta scritto Non di solo pane vivrà l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa e postolo sul pinnacolo del tempio gli disse Se sei figlio di Dio, gettati giù. Infatti sta scritto Darà ordini per te ai suoi angeli che ti sorreggano sulle braccia perché non urti in qualche sasso il tuo piede. Gli rispose Gesù Sta anche scritto Non tenterai il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro magnificenza e gli disse Tutte queste cose io te le darò se prostrato a terra mi adorerai. Allora gli disse Gesù Vattene Satana Sta scritto Adorerai il Signore Dio tuo e a lui solo presterai culto. Il diavolo allora lo lasciò ed ecco che gli angeli si avvicinarono a lui per servirlo. Quando poi seppe che Giovanni era stato imprigionato Gesù si ritirò in Galilea e lasciata Nazareth andò ad abitare a Cafarnao che si trova in riva del mare nel territorio di Zabulon e di Neftali perché si adempisse quanto fu annunciato dal profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali sulla via del mare al di là del Giordano Galilea delle Genti Il popolo che giace nelle tenebre ha visto una gran luce per quanti dimorano nella tenebrosa regione della morte una luce s'elevata. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire Convertitevi poiché è vicino il regno dei cieli. Camminando lungo il mare di Galilea Gesù vide due fratelli Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello. Stavano gettando in mare le reti poiché erano pescatori. Disse loro Seguitemi e vi farò pescatori di uomini. Essi all'istante abbandonate le reti lo seguirono. Muovendosi di là vide altri due fratelli Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello. Stavano rassettando le reti sulla barca insieme al loro padre Zebedeo. Li chiamò ed essi all'istante abbandonata la barca con il padre lo seguirono. Percorrendo tutta la Galilea Gesù insegnava nelle loro sinagoge annunciando il Vangelo del Regno e guarendo fra il popolo ogni malattia e infermità. Si sparse la sua fama per tutta la Siria e così condussero a lui i malati di ogni genere sofferenti di infermità e dolori vari indemoniati e paralitici ed egli li guarì. Lo seguirono perciò folle numerose provenienti dalla Galilea dalla Decapoli da Gerusalemme dalla Giudea e dalla Transgiordania. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti.